Ripeto, non si è trattato di singole battute, ma un articolato ragionamento che riassume una linea di politica estera. A nostro avviso questa linea di politica estera rende incompatibile che quella casella della Farnesina sia occupata da un esponente della stessa forza politica, il cui Presidente, quindi Forza Italia, Berlusconi, ha espresso e ha sintetizzato quel ragionamento. Calenda, vi siete stretti la mano? No, vi siete stretti la mano con Calenda, ma poco prima ha detto...